Arriva da pescare il grido d'allarme lanciato da Embi, l'ente nazionale bilaterale italiano, per chiedere l'intervento urgente delle istituzioni per garantire la sicurezza nelle scuole. Un tema scottante di grande attualità sul territorio nazionale, ma che vede l'Abruzzo in maglia nera. Risulta infatti che nella nostra regione soltanto il 33% degli edifici scolastici si è in possesso del DVR, ossia del documento di valutazione dei rischi, classificando quella abruzzese come la peggiore realtà a livello nazionale, anche sul fronte dei piani di evacuazione. Ma non è soltanto l'unica carenza, come sottolinea l'ingegnere Paolo Provino, presidente di Embital. Sì, purtroppo la situazione in Abruzzo è molto critica e dobbiamo intervenire tutti quanti insieme, collaborare tutti quanti insieme, quindi noi siamo pronti a collaborare con le istituzioni per fare dal principio uno screening per tutte le scuole e pianificare le varie attività da fare per intervenire e cercare di risolvere il problema nel più breve tempo possibile. Negli ultimi tempi, aggiunto ancora il presidente Provino, sono emerse numerose segnalazioni relative a carenze sia per quanto riguarda la certificazione che per quanto attiene al rispetto delle norme in materia di sicurezza. È fondamentale in questo momento pianificare un'attività di screening per tutte le scuole in cui vengono evidenziati tutti i vari rischi e tutti gli interventi da fare e intervenire immediatamente. Viene proposta anche una manutenzione periodica per cercare di tamponare la situazione in attesa di mettere gli istituti a norma. Sì, assolutamente, dobbiamo iniziare con la manutenzione e programmarla per tutti quanti gli anni. Questo forse era importante cominciare ieri, in passato, però anche se siamo in ritardo dobbiamo intervenire immediatamente. In questo processo, è stato detto ancora, insistiamo che vengano coinvolti i lavoratori della scuola nella definizione delle misure di sicurezza e nella loro attuazione attraverso le loro rappresentanze. Ambital, conclude Provino, avendo accumulato in questi anni un notevole know-how nel campo della sicurezza, sui luoghi di lavoro, è disponibile a collaborare con le istituzioni per trovare soluzioni concrete e durature a questo problema. Ma, pertanto, chiediamo un impegno concreto da parte di tutti gli attori coinvolti per garantire che le scuole siano luoghi sicuri ed accoglienti per tutti. In questo momento, però, più che dare colpa a chi non ha fatto, crediamo sia importante intervenire. Non siamo qui per dare una colpa, siamo pronti a collaborare per intervenire e migliorare il Paese. Siamo stati per tanti anni il fiore all'occhiello di tutta Europa e del mondo, dobbiamo tornare a essere il fiore all'occhiello, iniziando dalle scuole, sicuramente, che è il nostro futuro. Gli studenti sono il futuro del Paese.